Musica Nella stanza dell'Armado della Memoria, nei locali della Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana, posto una targa in ricordo delle 140 vittime della strage della Mommy Prince avvenuta 30 anni fa, che insieme ad una rosa rossa invocano ancora una volta verità e giustizia. Un gesto importante perché ricorda una delle stragi più terribili che ha vissuto la nostra Toscana. Quando il 10 di aprile sono stato a Livorno, negli occhi dei familiari delle vittime c'è tanta voglia ancora di verità e di giustizia. Noi oggi ponendo e deponendo qui la targa sul trentennale della strage del Mommy Prince vogliamo dare un segnale chiaro, il segnale che quella verità e quella giustizia devono essere ritrovate. Sono insieme ai colleghi dell'ufficio di presidenza, alla collega Fratoni, al collega Casucci, insieme al collega Gazzetti, al collega Landi, per deporre questa targa e per depositare una rosa rossa. E per dire che tutti insieme chiediamo a gran voce che questa giustizia e questa verità possano venire davvero a galla. In occasione del trentesimo anniversario della strage del Mommy, con una mozione chiediamo tutti insieme che ci sia un grandissimo lavoro a sostegno anche delle richieste avanzate a livello parlamentare per l'istituzione di una nuova commissione d'inchiesta. Ovviamente la disponibilità della regione toscana a dichiararsi parte civile in caso di riapertura di un procedimento a qualsiasi livello e soprattutto ovviamente torniamo a manifestare la più totale vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime, a tutti i familiari e in questo momento il pensiero non può che andare a una persona soprattutto, all'Oris Rispoli. Non dobbiamo lasciare nessun ambito oscuro. La politica deve fare tutti gli sforzi possibili per arrivare a quella verità. Sicuramente non dobbiamo andare a indagare come hanno fatto le indagini giudiziarie, ma da forze politiche dobbiamo fare tutto il possibile perché le famiglie che hanno vissuto in prima persona questa tragedia e a cui noi ancora oggi ci uniamo con questa celebrazione debbano avere una verità vera. Campagna vaccinale ancora al centro della discussione consigliare toscana. Attraverso i vari esponenti politici queste le attese, i risultati, le richieste e le mancanze. Il fatto che arrivino poche dosi non è responsabilità né di Gianni né di Bezzini, i quali però devono dare risposte alle tantissime persone preoccupate, fragili, over 80, coloro che hanno bisogno di avere la somministrazione presso il proprio domicilio, che continuano a impazzire da un sito all'altro. C'è ancora troppa confusione in questo e soprattutto queste risposte non possono essere affidate soltanto alla via telematica. C'è stato un po' di recupero di terreno ma siamo ancora lenti. Noi ci auguriamo che nelle prossime settimane si possa sbloccare. Comunque non bisogna abbandonare gli altri due obiettivi che vengono prima del vaccino, ovvero il tracciamento, il maggior numero possibile di tracciamenti, perché è evidente che il virus lo si blocca anche isolando chi lo trasporta e quindi bisogna fare il maggior numero possibile di tracciamento. E poi potenziare, rafforzare ancora di più le cure domiciliari. Noi eravamo avanti sugli over 70, avanti sui novantenni, sui fragili è un dato un po' anomalo, quindi non si sa bene anche le altre regioni come sono messe, e indietro sugli ottantenni. Sugli ottantenni abbiamo recuperato e siamo ancora avanti sulla fascia dei 70-79, e ovviamente gli over 90, quello va da sé. Quindi il limite ancora oggi continua ad essere quello dell'arrivo dei vaccini. Avevamo la notizia positiva dell'arrivo di Johnson & Johnson, che come abbiamo visto purtroppo rimane anche questa subiudice, e vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Diciamo che l'elemento che ci farà fare un passettino avanti nei prossimi giorni e la destinazione appunto di un po' di dosi di vaccino Pfizer in più che sono arrivate per la categoria dei superfragi. Quindi direi che allo stato attuale ci sono tutte le condizioni per poter dire che le tappe che c'eravamo prefisse, e quindi anche il 25 aprile, saranno rispettate. Ancora c'è da puntare l'indice verso i contratti capestro che sono stati fatti dall'Unione Europea nei confronti delle multinazionali del farmaco, che mancano di fatto e hanno mancato a degli accordi che sono stati fatti. L'altra è l'organizzazione. Ancora oggi la piattaforma dava delle criticità, per esempio i riservisti non si possono prenotare perché già probabilmente inseriti al sistema e non riescono ad accedere. Abbiamo il problema che ancora molti over 80 non riescono, non hanno vaccinazione, non sanno cosa fare, aspettano di essere chiamati ma non sanno se saranno chiamati e la commissione speciale che era stata richiesta ancora non si attiva. Probabilmente l'attiveranno quando ormai sarà arrivato il Governo nazionale a imporre alla Toscana una sterzata netta su come viene gestito il piano vaccinale che continua a essere fallimentare nonostante si continui a dire che le cose stanno migliorando. A mio avviso adesso si sta iniziando a migliorare, i numeri dimostrano e dicono questo. Credo che si debba fare bene e velocemente, bene l'intervento della protezione civile, bene anche il fatto che si possano utilizzare più metodologie di vaccinazione, i medici di famiglia stanno facendo la loro parte, però bene anche l'utilizzo degli hub. Credo che gli over 80 debbano essere fatti quanto prima, così come le persone fragili e credo che si debba avere certezza delle dosi e un'organizzazione che deve essere supportata dalla commissione speciale. Noi abbiamo chiesto che venga istituita velocemente e questa perdita di tempo non è necessaria, serve che maggioranza e opposizione si possano incontrare per dare un supporto fattivo, collaborativo e questa commissione deve essere costituita anche da degli scienziati, da dei tecnici che possano supportare il soggetto decisore politico. Di ultraottantenni, vaccinazioni che è stato chiaro, evidentemente nei numeri in passato la regione toscana è rimasta indietro, è rimasta indietro rispetto alle altre regioni a livello nazionale e i numeri non tornano. Noi abbiamo chiesto chiarezza, chiarezza su quel termine altro che veniva individuato nella categoria vaccinata con il Pfizer che è chiaramente un vaccino da destinare in maniera specifica a coloro che operano in prima linea nell'ambito sanitario e agli ultraottantenni. Ancora ad oggi non abbiamo capito in questa categoria altro chi sono stati vaccinati, faremo un accesso agli atti, cioè vogliamo andare fino in fondo per capire quali vaccini sono stati usati e chi è stato vaccinato in base alle categorie. Se non arrivano i vaccini diventa difficile vaccinare. Abbiamo contestato in una prima fase alcune scelte della regione toscana, non eravamo favorevoli a far vaccinare gli avvocati, avevamo ragione, oggi gli avvocati non si vaccinano più. Abbiamo chiesto di vaccinare immediatamente gli over 80, la regione era indietro, oggi sta facendo con un sacrificio un avvicinamento a quello che è la media nazionale, anche se pur in difficoltà e con dati peggiori della media nazionale. Avevamo chiesto di far vaccinare tutti i malati oncologici, non soltanto quelli che hanno finito la chemioterapia o le cure entro i sei mesi, ma di vaccinare tutti quelli che sono in follow-up. Il Consiglio regionale ha detto che avevamo ragione, aspettiamo che anche il Ministro apra tutti, perché diventa inaccettabile vaccinare solo una parte di quei malati. Chiediamo due cose. La prima è che il Governo faccia un'operazione e acquisti le fiale vaccinali necessarie a vaccinare tutta la popolazione. Il secondo elemento è che la regione toscana si metta in riga, faccia gli hub. Abbiamo chiesto di vaccinare 24 ore su 24, abbiamo chiesto lo scudo penale per medici, infermieri e il mondo del volontariato che va a vaccinare compresi i farmacisti. Siamo fermamente convinti che la fase pandemica si può fermare soltanto vaccinando. Ecco perché abbiamo chiesto un'accelerazione alla regione toscana. In tema economia, pressioni sempre maggiori dal mondo lavorativo per indurre la politica a pianificare riaperture sempre più necessarie per non portare il territorio ad un vero tracollo economico. Siamo convinti del fatto che le attività debbano riaprire, possano riaprire rispettando le regole, facendo prevenzione, mettendo una mascherina, tenendo le distanze, lavandosi le mani. Ci diamo tre regole certe, le rispettiamo e siamo convinti che le attività economiche saranno le prime a chiedere ai propri clienti di rispettare le normative e non possiamo più accettare delle chiusure. A mio avviso questa storia dei colori, giallo, rosso o arancione che sia deve terminare perché non può più durare un lockdown permanente a distanza di un anno. I numeri ci dicono questo, peraltro per effetto di tutti questi ripetuti lockdown non è che il quadro sia migliorato al cospetto di altri paesi europei, quindi diamoci delle regole, magari rigidi, ma rispettiamole e consentiamo all'impresa di lavorare così come alle scuole di essere aperte. Siamo convinti che questo debba essere fatto fin dalla fine di questo mese. Da una parte con il cuore siamo vicini a coloro che ormai non stanno più sopportando le chiusure, dall'altra parte il grande equilibrio di dover tutelare la salute dei cittadini e degli ospedali, soprattutto degli operatori che in questo momento stanno soffrendo. Quindi è importante secondo me valutare e avere anche la possibilità di fare quell'esercizio un pochino più approfondito, ovvero di poter andare, ora in base anche a quello che sceglierà il governo, andare per chiusure là dove ci siano veramente dei casi, un numero di casi superiori alla norma. Aumentare la campagna di vaccinazione, che a ricordo è il vero problema perché mancano i vancini, può sicuramente dare una spinta e favorire anche le rifletture. A questo si aggiunge il grande tema dei ristori e quindi ecco perché in accordo anche con quello, anzi in accompagnamento con quello che arriverà dal governo, proveremo anche come regione nelle prossime manovre di bilancio, come già annunciato, a dare un aiuto a coloro che stanno soffrendo più di altro, ovvero a coloro che non hanno ancora avuto né su un tipo di ristoro nazionale o comunque meno rispetto ad altri. Le riaperture ci devono essere, devono essere fatte con molta coniezione di causa e con attenzione, ecco perché non si può andare in maniera isolata la regione toscana piuttosto che altre regioni. Io credo che molti professionisti siano in grado in questo momento di riuscire a lavorare, magari meno, ma in sicurezza, però tutto questo deve essere concertato insieme a dei tecnici che sappiano anche fare queste valutazioni e delle volte prendere delle posizioni politiche può significare non riuscire a contemporare tutte le esigenze che ci sono. Il ruolo della politica in questo momento è far venire incontro alle esigenze della sicurezza con quelle delle persone che giustamente, legittimamente e per questo non gli siamo vicini, chiedono di ricominciare a lavorare. Dobbiamo tornare a vivere, dobbiamo consentire ai nostri cittadini di lavorare perché questo ci chiede ormai la nostra cittadinanza, quella di poter tornare a lavorare. Siamo un popolo di lavoratori, non siamo persone che vogliono stare con le mani in mano e riteniamo che laddove c'è la possibilità si debba farlo il prima possibile perché salvare l'economia è indispensabile. Anche nella nostra regione sappiamo benissimo che la maggior parte delle nostre attività sono fatte di piccole imprese a conduzione familiare, quindi stiamo mettendo veramente a repentaglio il futuro anche di piccole aziende che ormai sono tramandate da generazioni. Dobbiamo consentire laddove è possibile di riaprire il prima possibile, questo è quello che la Lega ha già chiesto tramite Matteo Salvini al Governo e che continueremo a chiedere finché non ci sarà dato. La parola d'ordine d'ora in poi deve essere riaprire, è inaccettabile che si continui a tenere le attività commerciali chiuse. Che male c'è se si mantiene il distanziamento, se si usano queste, le mascherine, il materiale di protezione individuale, se si sta all'aperto ma si continua ancora a tenere tutto chiuso. È inaccettabile, non solo è inaccettabile, se non si riapre in maniera immediata noi rischiamo di far chiudere le nostre aziende e soprattutto di dare in mano alla malavita quelle poche che rimarranno ancora aperte. Ecco perché anche oggi ho portato in Consiglio regionale una mozione per chiedere la riapertura di palestra e di piscine. Mi dispiace aver visto che il Partito Democratico ha votato contro. Sono fermamente convinto che riaprire le attività commerciali non mette in pericolo niente, anche perché le attività commerciali erano chiuse ma i contagi continuavano ad aumentare. Io ho la sensazione che il contagio lo si trovi non nelle attività commerciali dove il proprietario mette in atto tutte quelle misure di cautela necessarie ma lo si trovi per esempio sul trasporto pubblico. Ed è un paese strano dove si vaccinano gli insegnanti giustamente ma si tengono le scuole chiuse. Ecco io mi auguro che la fase vaccinale vada il più velocemente possibile ma che contestualmente si riapre al primo possibile le attività commerciali. Come voi ho assistito alla nascita di un governo nazionale chiamato a sostituire il governo che non sapeva decidere per iniziare a decidere e avviare il cronoprogramma verso le riaperture. Mi pare che ci sia una continuità totale e assoluta tra questo esecutivo e quello precedente. Mi sembra che come l'ex primo ministro Conte non sapesse scegliere da dove ripartire per le riaperture il presidente Draghi sia nella stessa identica situazione e continuiamo la cosa surreale di continuare a tener chiuse quelle attività che abbiamo chiuso da un anno e mezzo senza che la loro chiusura incida in qualche maniera sui contagi. Allora la soluzione probabilmente è difficile da trovare ma non capisco perché si continui da un anno e mezzo a chiudere sempre gli stessi. Proviamo a fare qualcos'altro, ne dico uno a caso, proviamo a incrementare il numero di autobus e a dimezzare le persone che stanno sopra gli autobus e riaprire i ristoranti e le piscine. Chi lo sa? Magari il virus si trasmette più sugli autobus pieni che in piscina? Non lo so, secondo me sì, ma almeno provare.